...attirare in più, però come diceva lei, non è... è naturale, tutto è naturale, biologico. Anche la tartarughe, quella giocca. Sì, l'ho vista questa. Sì, sì, ci sono esattamente alcune tartarughe, sono sempre dei proprietari di caverni. In realtà ci sono anche dei gatti, tre gatti. Sì, infatti quando ho visto i gatti ho pensato che ci sia abitato. Grazie. Grazie.